ti saluto con la pace del signore e che dio ti benedica che dio benedica questo messaggio che stai prestando ad ascoltare che dio possa fortificarti nello spirito e che dio possa insieme farci comprendere le verità della parola sua amen come avrai potuto notare dal titolo di questo messaggio di questo video stiamo continuando a parlare di lotte il nipote di abramo il primo patriarca che abbiamo già iniziato da diverso tempo e che stiamo continuando perché stiamo ricevendo grandi benedizioni attraverso la vita di quest'uomo e la bibbia ci sta insegnando diversi aspetti da considerare da mettere in pratica da ricordare se ti ricordi nel video passato abbiamo trattato un argomento veramente molto importante molto serio se ti ricordi era quello che per poter scampare al giudizio di dio come fu per lotte per poter scampare al giudizio di dio su sodoma doveva uscire da sodoma e doveva andarsene via da quel paese immorale perché la distruzione era imminente su di esso ancora oggi il messaggio è lo stesso poiché il salario del peccato e la morte e dio ci dice che per scampare al giudizio di questo salario dobbiamo uscire fuori dalla strada del peccato che molte persone decidono e continuano a decidere di intraprendere e quindi è un invito che ci viene rivolto ancora oggi questo è il messaggio del video precedente che comunque lo puoi trovare sempre nel mio canale se vai nella nella sezione playlist c'è proprio una playlist chiamata lotte il nipoto di abramo lì ci sono tutti i video che parlano di questo personaggio dall'inizio fino oggi oggi invece parleremo di un altro aspetto sempre della vita di lotte che ci riguarda in un modo particolare quindi vogliamo prestarci ad ascoltare la parola del signore sto per leggere un versetto dalla parola di dio siamo nel libro della genesi è il primo libro della bibbia e siamo al capitolo 19 leggeremo il versetto 15 e poi ci soffermeremo solamente su una parola intanto leggiamo questo versetto dice così la scrittura quando all'alba quando l'alba cominciò ad apparire gli angeli sollecitarono lotte dicendo alzati prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui perché tu non perisca nel castigo di questa città la parola sulla quale ci soffermeremo oggi è proprio la prima parola che gli angeli gli rivolgono a lotte ossia levati alzati lotte su questa parola voglio fare alcune considerazioni allora se dovremmo analizzare dettagliatamente e in maniera proprio letterale questa parola alzati potremmo pensare che è rivolta a due categorie di persone una di queste è una persona seduta ok quindi a una persona seduta gli si dice alzati esci da questo paese perché il giudizio è su questo paese devi uscire fuori per aver scampato alla vita ok il secondo tipo di persona alla quale si potrebbe rivolgere questo tipo di invito è una persona coricata e se a una persona coricata tu gli puoi andare a dire alzati dal letto alzati poiché il giudizio è su questo paese su questa città se non esci fuori cadrai nella mano della distruzione ecco quindi se volessimo considerare proprio questo aspetto questa parola in maniera proprio letterale potremmo pensare e considerare che lotte quando la la sera quando la sera arrivarono gli angeli a casa sua gli angeli gli annunciarono subito il messaggio lotte qua sta per arrivare una distruzione proprio in questo paese dove stai tu chiama i tuoi familiari e uscite fuori subito lotte cosa fece andò dai suoi generi andò dalle sue figlie sposate e gli andò ad annunciare che il giudizio era imminente che dovevano uscire subito ma la bibbia ci dice che i suoi generi pensavano che stava scherzando c'è pensavano che non era serio in quello che stava dicendo anche perché come abbiamo detto anche in qualche video precedente sempre che abbiamo analizzato la vita di lotte abbiamo pensato questo che vedendo lotte che vive in un paese immorale non ha deciso di fare la volontà di dio si è separato da abramo l'uomo chiamato da dio e tante altre cose io abbiamo considerato che i suoi generi avranno detto ma lotte ma ma tu non hai mai preso le cose sul serio le cose di dio e ora ci viene a dire che il giudizio di dio è imminente ma dai ma fate una risata lotte ma si più sereno tranquillo no ti ricordi ne abbiamo parlato precedentemente e quindi non accettarono l'invito e lotto cosa fece ritornò a casa dove c'erano gli angeli dove c'era sua moglie e le sue due figlie quelle che non erano sposate e poi vediamo questo versetto che abbiamo letto questa mattina che ci dice la bibbia che era l'alba quindi gli angeli sono arrivati la sera gli angeli hanno dato il messaggio a lotte la sera e ora ci troviamo all'alba ma tu pensi che siano state sveglie tutta la notte non credo proprio altrimenti questa parola che gli angeli gli dicono all'alba non avrebbe senso perché gli dicono chiaramente lotte alzati esci fuori da questo paese perché il giudizio è pronto dobbiamo distruggere questo paese e dio vuole risparmiarti ha usato misericordia per te e quindi questo messaggio ci fa comprendere una cosa che lotte inizialmente quando ha ricevuto il primo messaggio dagli angeli l'ha preso sul serio ha compreso l'urgenza di ciò che stava avvenendo e si è mosso subito è andato dai suoi generi è andato dalle figlie è andato ad annunciare questo giudizio ma poi è ritornato a casa e non si sa perché non si sa come si è rilassato si è rilassato forse ora la bibbia non ce lo dice giusto ma probabilmente essendo sera tardi si è andato pure a coricare e all'alba gli angeli dovendo distruggere il paese di sodoma e gomorra lo invitano ancora una volta e gli dicono lotta alzati devi uscire da questo paese e allora come potremmo applicare questo messaggio alla vita nostra oggi nel 2022 beh io ho considerato questo essendo che molte volte ho predicato l'evangelo nelle piazze nelle comunità nella chiesa e quindi ho avuto a che fare con tantissime persone alla quale molti di loro ho predicato anche questo tipo di messaggio ossia alzati perché un giudizio è imminente sulla tua vita anzi stai vivendo già nel giudizio la tua vita in depressione la tua vita nell'ansia la tua vita nel dolore nella tristezza nell'angoscia la tua vita è una vita di solitudine di legami di schiavitù di droga di alcol e di quant'altro alzati cambia direzione e vivrai perché questo è la buona notizia dell'evangelo no e quindi cosa è successo quando ho predicato questo messaggio semplice come per lotte alcuni lo hanno ricevuto subito e si sono mossi subito inizialmente solo che subito dopo chi dopo un giorno chi dopo una settimana chi dopo un mese chi dopo un anno si sono rilassate si sono rilassati nonostante dio avesse parlato al loro cuore e li avrebbe avvisati su ciò che sarebbe potuto succedere proprio nella loro vita e quindi qual è il succo qual è la morale di questo messaggio che ancora oggi il messaggio non è cambiato ancora oggi la parola di dio lo spirito santo ti sta invitando a non rilassarti ma ad alzarti dal tuo letto ad alzarti dalla tua sedia e di muoverti in una direzione opposta da quella che stai camminando perché la via che stai percorrendo è contraria alla volontà di dio quindi il messaggio è molto chiaro non fare come fece lotte che si rilassò ma si vigilante questo è un pensiero che oggi ho nel mio cuore e credo che sia un messaggio di urgenza sì perché come ai tempi di lotte il castigo era imminente stavano per essere distrutti sodoma e gomorra quindi c'era urgenza di uscire da quel paese e oggi è uguale gesù sta per tornare e quando gesù ritornerà come ai tempi di noè le porte dell'arca si chiuderanno e poi hai voglia di bussare signore signore aprimi una voce da dentro si sentirà e dirà queste parole io non ti conosco perché mi chiami signore signore quindi credo che dobbiamo prestare molta attenzione a questo e come per lotte cioè non come per lotte scusami prendendo lotte come esempio negativo affrettiamoci a considerare l'urgenza l'invito da parte di dio a cambiare vita a cambiare strada perché la fine dei tempi è vicina gesù sta per ritornare e quando ritornerà non ci sarà più spazio quindi io prego che lo spirito santo possa toccare il tuo cuore e che la parola di dio possa convincerti a prendere la scelta giusta l'invito lo leggo ancora una volta genesi capitolo 19 versetto 15 l'invito è rivolto ancora oggi a te che stai ascoltando alzati prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui con te perché tu non perisca nel castigo di questa città dio ti benedica e che dio ti dia saggezza nel prendere la scelta giusta pace del signore e ci vediamo a presto al prossimo video shalom grazie a tutti